Allora, di là ho letto, non è il rispetto ma la paura a muovere l'uomo, è così che si fondano gli imperi e cominciano le rivoluzioni, è questo il segreto dei grandi, e questa è una frase di Frank Underwood, ma noi dobbiamo leggere, pensare e poi fare, trasmettere con ogni suo sguardo, perché io trovo che Ernest Pesci sia uno degli attori che riesce con i suoi occhi a trasmettere proprio ogni sensazione, ogni percezione di, in questo caso, malvagità, di ironia, di cattiveria, però lui è uno che con gli occhi riesce davvero a trasmettere tanto e noi con la voce cerchiamo di adeguare e di seguire quello sguardo, cioè io perlomeno mi metto al servizio di questo.